Alessandro e la Codegoni raggiungono Alfonso Signorini dopo il panico scoppiato ieri tra i fan, e finiscono nella bufera. Mistero risolto. Alessandro Basciano e Sofì Codegoni, non si sono lasciati. Nessuna crisi ha colpito i due neogenitori, che proprio in queste ore, appaiono insieme in un nuovo video di chi su Instagram. La coppia è arrivata a Rimini, insieme alla figlia Selin Blu, per un evento speciale che svolgerà in collaborazione con la famosa rivista. Ad attenderli sul posto c'è Alfonso Signorini, il quale suona al pianoforte per loro, mentre sofficulla la bambina tra le sue braccia. Nel video condiviso da chi per annunciare la presenza dei Basciagoni così definiti dai fan al nuovo evento, viene chiesto loro se hanno oppure no ricominciato a seguirsi. Questo perché nella giornata di ieri tra i fan della coppia nata al grande fratello VIP, è scoppiato il panico. Il motivo? Improvvisamente Alessandro ha tolto il, segui, a Sofì su Instagram, e viceversa. Un dettaglio che può sembrare inutile. Eppure nell'era dei social network per i fan delle coppie famose, questo rappresenta molto più di un semplice gesto. Non solo, alcune dichiarazioni condivise dalla mamma della Codegoni, sembravano confermare la rottura. Invece, le sue parole non avevano nulla a che fare con quanto stava accadendo tra Sofì e Alessandro, i quali probabilmente hanno solo affrontato un piccolo litigio con tanto di dispettuccio sui social network. Rispondendo alla domanda che le viene posta, la Codegoni afferma, ha ricominciato a seguirmi se no lo buttavo giù dal treno. Quindi sì ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo tre anni e mezzo a testa.